Le problematiche del bilancio comunale sono da considerarsi ormai croniche. La Corte dei Conti boccia senza possibilità di replica lo strumento finanziario consuntivo del municipio per l'anno 2011 e ordina entro inizio novembre l'adozione di misure correttive. Non sono bastate alla sezione di controllo per la Regione Sicilia le giustificazioni adotte dal Comune di Agrigento ai nove rilievi avanzati nel confronto del rendiconto finanziario per il 2011. Troppi per i giudici punti oscuri del bilancio, troppe le criticità per non provvedere ad un intervento da parte dell'amministrazione e conseguentemente del Consiglio Comunale. Problemi che l'ente conosce benissimo perché già al centro di precedenti contestazioni da parte dell'organo di controllo finanziario nonché delle relazioni dei revisori dei conti ma che fino ad oggi non si è riusciti a correggere. Si parte con i debiti fuori bilancio, fenomeno a quanto patologico. Secondo la Corte dei Conti nel corso dell'esercizio finanziario 2011 sono infatti stati riconosciuti oltre 744.624 euro di cui oltre 670.000 solo per sentenze esecutive cui si aggiungevano i debiti che attendevano il riconoscimento in Consiglio Comunale alla data del 31 dicembre 2011. I dati esposti scrivono non lasciano dubbi in ordine al fatto che la formazione di tali passività costituisca il risultato di una sottostimata previsione delle spese dell'ente imputabile per lo più ad una inadeguata programmazione finanziaria. La Corte inoltre contesta al Comune il ritardo con cui ha trasferito negli anni i provvedimenti di riconoscimento dei debiti. Questo rende difficile alla Corte le verifiche di competenza e in ipotesi di danno errariale il tempestivo esercizio di azioni di responsabilità. Critiche anche sulla mole definita abnorme di residui attivi ovvero oltre 71 milioni e 600 mila euro che per la Corte sono di dubbia esigibilità. E se i giudici apprendono con soddisfazione le procedure di riaccertamento parziale da parte del Comune con l'istituzione del fondo svalutazione crediti per l'esercizio 2012 affermano che il mantenimento di un certo volume di residui attivi viola i principi di chiarezza veridicità e attendibilità del bilancio rende inattendibile l'avanzo di amministrazione che in presenza di residui attivi di dubbia esigibilità può essere fittizio e non reale. Il Comune secondo la Corte avrebbe anche fatto frequente ricorso a consistenti anticipazioni di tesoreria non rimborsate a fine esercizio al 31 12 2011 quasi 3 milioni di euro e sarebbe a prescindere responsabile di aver tardato oltre il dovuto nell'approvazione degli strumenti finanziari, questione posta più volte anche dal Consiglio Comunale. La Corte contesta inoltre un irregolare utilizzo dei capitoli afferenti ai servizi conto terzi con particolare riferimento a spese progetto maila, spese bonus nascita figlio, bonus socio sanitario, spese servizio trasporto pubblico più oltre 5 milioni e 700 mila euro di altri impegni di spesa imputati nel capitolo altri servizi.